Una nuova stagione per l'angolo dell'esperto e il mercoledì dalle 13 alle 14 l'architetto Daniele Mecucci ci parlerà appunto di architettura. Cosa dobbiamo aspettarci? Quest'anno ci aspettiamo qualcosa di più divertente perché entriamo nell'attualità di Civitavecchia e quindi affrontiamo tematiche più locali nonostante poi spazieremo come sempre anche su caratteri più generali, insomma su argomenti di interesse anche nazionale e internazionale. Architettura. Quando parliamo di architettura in due parole cerchiamo di riassumere questa parola. Beh l'architettura è una mediazione tra l'opera dell'uomo e l'opera della natura quindi è praticamente la convivenza tra le due cose e noi dobbiamo cercare sempre di stare nel giusto equilibrio. Tutti i mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Stella Città 101.2